Buongiorno a tutti. Oggi continuiamo quel percorso di saggi legati a questo grande studioso delle nostre tradizioni. Intendo Piero Camporesi. E oggi vi volevo accompagnare in un percorso a mio dire erotico. Sì, così viene definito. Viene definito da lui stesso. Non è una mia invenzione. Nei Balsami di Venere. Che presenta come sottotitolo erotica. Con la K. Sono piuttosto duro. Ma che ci vuole in qualche modo riportare a quella che è sempre una dimensione carnale, corporale, di cui avevo già detto, cui lui è legato nei suoi percorsi. E qui perché no? Non solo in relazione alla farmacopea o in relazione alla cucina o al gusto che si evolve. O a come i cibi in qualche modo vengono coltivati, prodotti dall'uomo. Ma qui anche in quella che è una dimensione sensuale, erotica. E abbiamo infatti come secondo testo che vi volevo proporre le officine dei sensi. Diciamo che i Balsami di Venere riprendono elementi che poi troviamo più approfonditamente nelle officine dei sensi. Quindi questi due libri si richiamano, non dico si equivalgono. Diciamo che qui è molto più improntato, lo dice il nome Venere, sulla figura femminile in particolare e anche sull'atto del coito. Sappiamo che, vi ho già detto che Camporesi vuole anche provocare in noi, rifar emergere quel sommerso, appunto, quell'elemento che è legato ai desideri più profondi dell'uomo e anche, perché no, alle sue paure, alle sue angosce. Sappiamo che la mummia umana viene utilizzata in tutte le sue parti, senza sprecare niente, facendo cerotti con la pelle umana, fabbricando intrugli, creme, balsami, sciroppi. E anche qui vedete come questi termini hanno una double face, sono interscambiabili in cucina, come nel laboratorio farmacopeico, perché appunto, o dell'alchimista, se vogliamo, perché attraverso gli alambicchi si possono cucinare determinati alimenti, quindi si parla in senso stretto di alimenti per nutrire o invece per abbellire, come cosmesi, o ancora per curare. E quindi le troviamo un po' tutte queste dimensioni in questi due testi molto accattivanti. Nelle officine dei sensi, in contraposizione a quello che è, pensando alla sensualità, qualcosa di libero, di naturale, di incontrollato, di selvaggio, abbiamo invece l'orto. Lui si sofferma tantissimo sull'orto. Vedete questi aspetti paradossali, contrapposti, anche inaspettati, se vogliamo, perché uno dice come l'orto. Sì, l'orto è quindi una dimensione controllata, euclidea, geometrica, dove la natura è addomesticata e dove cosa si produce nell'orto? Tantissimi prodotti, ma diciamo che lui si sofferma su quello che veniva detta dagli antichi, dai romani, Mala, anche qui senso di qualcosa che evoca, cosa di Luciferino, il serpente, la tentazione, perché no? Quindi Mala, avrete già capito, che si intendeva la mela. Quindi un po' Mario, un po' Mario, e qui lui va a sistematicamente, minuziosamente, a indagare vari significati che la Mala assume nel corso delle culture, dei tempi, dei miti. La ritroviamo con Hercules, la ritroviamo con, oltre che con Hercole, con Gigalmesh e ovviamente con Adamo. La ritroviamo nella guerra di Troia, legata alla bellissima Elena, la ritroviamo come simbolo della donna, ancora una volta l'importanza dell'archetipo femminile, la donna che da una parte è maga, è strega, è fascinorosa, ma nello stesso tempo può essere ingannatrice, serpente, donna serpente che porta alla tentazione, donna ammagliatrice, ricordiamo la strega di Biancaneve, tanto per cittare una fiaba di Grimm. Ma anche invece elemento di dolcezza, di castità, simbolo solare, di luce, la forma rotonda, la polpa. Quindi da una parte delizia, casta e dall'altra volutate, peccato. Ma ancora abbiamo l'età dell'uomo che vengono ripercorsi attraverso la mela e quindi la mela è acerba, poi la mela diventa matura, polposa, feconda, poi tentatrice e poi si avvensisce pian piano, diventa rugosa, non solo la polpa ma proprio anche la buccia pelle. Quindi vedete quante metafore, quanti elementi, quante relazioni che vengono messe insieme, dove il mondo contadino qui comincia a emergere. E anche qui con quelli che sono gli aspetti controversi, come avevo parlato degli aspetti controversi del pastore, anche il contadino che sembra apparentemente così sereno, così legato a quelli che sono i ritmi naturali della vita, così saggio, la saggezza contadina. Ed è vero, tutto ciò non si smentisce. Esiste questa dimensione di un sapere sapienziale proprio che segue i ritmi naturali della natura, perché quelli erano delle stagioni, niente era snaturato, l'uomo si alzava all'alba con il sole e andava a letto al tramonto. Così il ritmo delle stagioni, scandito dai vari lavori nei campi. E non solo, il ritmo del cielo, perché dobbiamo pensare che non c'era l'inquinamento luminoso, oltre che l'inquinamento in senso stretto che c'era, che c'è oggi. E quindi nel mondo medievale, sì, ma non solo, anche in quello egizio, in quello antico, dei popoli della mezzaluna, fertile, ma appunto è un guardare il cielo, affascinati come posso essere io, vi garantisco moltissimo. È una delle mie passioni è l'astronomia, quindi veramente vi posso dire che per me il cielo rappresenta il mistero, il mistero e la voglia di indagarlo, questo mistero, ma neanche poi di andarci così tanto a fondo da voler spiegare tutto, spiappellare tutto. Ma che rimanga quel margine di mistero, ma rimane perché è un tale infinito, assoluto, imponderabile. Ecco, queste dimensioni, molto affascinanti, per carità, intriganti, però presentano sempre quell'alimento ansiogeno, angosciante. E nel contadino maggior ragione a guardare il cielo significa cercare anche di prevedere quelli che possono essere delle, come dire, delle grandinate, delle nevicate, delle ghiacciate, che poi mettono in pericolo il raccolto, i cibi. E quindi c'è sempre l'elemento della paura, del timore, della fame, della carestia, accanto all'abbondanza, alla dolcezza di questa mela come globo luminoso, zuccherino e sodo. La contrapposizione tra domesticamento della natura e natura selvaggia, indomita, che alla fine è imprevedibile. E anche queste nenie, questi saperi popolari, questi proverbi dei contadini sono altamente sedativi, tranquillanti sono. Oltre a, ma non ve lo voglio anticipare perché farò un video solo per lui, per quel bellissimo testo che è sempre di Camporesi, il pane selvaggio, dove lui vi anticipo solo il fatto che questo pane, lui indaga tutti i tipi di pani, l'uomo panificatore o... è un uomo che ricerca nel pane, non solo fonte di sostantamento primario, come poteva essere anche il latte, qui frutto di una coltivazione del grano, quindi di un sapere già più progredito, se vogliamo, evoluto, o di una natura più addomesticata, ma anche di una ricerca, di un fuggire da una realtà, una realtà di fame, di carestia o anche solo di paura di avere fame. La fame in Camporesi, abbiamo il paese della fame, un altro libro eccezionale, è veramente... ce la fa veramente toccare con mano, perché gli uomini, ci presenta sempre questi documenti, mangiano radici, arrivano a mangiare cannibaliscamente altri uomini, arrivano in situazioni di guerre, di carestie estreme, all'autofagia, quindi a mangiare se stessi, o prodotti del proprio corpo. Sempre ritorna questa mumia umana, che è morte, che nello stesso tempo è fonte di vita. Tutto viene utilizzato, dallo sperma umano, mescolato magari al sangue liquido di vita, all'olio di... all'olio di sempre di sangue umano, che viene ricavato, i capelli, le unghie, per non parlare poi di quelle che rivestono le reliquie dei santi, sempre il sacro, il profano. E qui in questo mondo pagano, animista, contadino, che si mescola poi alle tradizioni cristiane, e in questo sviluppando un sincretismo anche qui affascinantissimo, l'uomo mangia questi panni alloiati, papaverini, perché ricerca questa dimensione allucinogena di un mondo alla rovescia, di un paese di cuccagna, dove possa non soffrire più la fame, dove i usciutti crescano sugli alberi. Vedete quante cose che vengono ad attingere a un mondo estremamente naturale, semplice, ma nella semplicità di questo mondo quanta complessità di riferimenti, di elementi, di sfaccettature, di sfumature, perché l'uomo è questo. Bene, sperando anche questa volta di avervi interessato in qualche modo i balsami di venere e le officine dei sensi, il corpo, il cibo, i vegetali, una cosmografia interiore dell'uomo. Vedete, sempre anche questo elemento, che attraverso gli usi, costumi, le tradizioni, i miti, i cibi, le azioni dell'uomo, si attinge a quelli che sono gli elementi più profondi, interiori. Bene, ciao a tutti e se vi è piaciuto il video cliccate mi piace. Alla prossima, ciao!